. Filippa Lagerbacca al GF VIP per Daniele Bossari? Le sue parole . . Grande Fratello VIP 2, Filippa Lagerbacca in studio per sostenere Daniele Bossari? Filippa Lagerbacca si è lasciata intervistare da TNCon24 e ha rilasciato dellinteressati confessioni su Daniele Bossari e sulla sua eventuale apparizione al Grande Fratello VIP. . 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 In acuto guezze e soprattutto al pianto del suo fidanzato, la spalla di Fabio Fazio ha affermato, non ho mai detto che non andrò al grande fratello Vippo e chi lo sa. Insomma, vedremo presto Filippa in studio, magari proprio durante la prossima diretta. La Lagerbacca ha inoltre affermato che riguardo al rapporto con Daniele numerosi giornali hanno scritto di tutto, dalla sua gelosia, fino addirittura ad un'eventuale crisi. Filippa anche in questa occasione ha smentito il gossip, dichiarando invece che sono una coppia solidissima. E come metterlo in dubbio dopo tutto ciò che ha fatto in seguito alla litigata tra il suo fidanzato e Gerenias? Infine, l'annunciatrice di Che Tempo che fa ha rivelato di vedere tutte le sere in tv il suo fidanzato insieme alla loro piccola Stella Bossari. Bisogna comunque aggiungere che il fratello di Belen durante le ultime ore ha chiesto scusa a Daniele, scuse che sono state accettate dal conduttore e hanno tranquillizzato la stessa Filippa. Ciao!